Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto categorie Swarovski Elements Flat. Notefix design esclusivo con Swarovski e LEM e NTS la scintilla luminosa di un cristallo Flatbox Notefix di Swarovski è stata sempre una fonte di fascino. Si applicano facilmente sui più svariati materiali, utilizzando colle standard a uno o due componenti. I cristalli hanno una lamina di platino sul retro per maggiore brillantezza e protezione. Spettacolare brillantezza col taglio Xilion Rose, Enaced Xilion Rose Enaced è il taglio più brillante sul mercato. Queste sono le caratteristiche. Brillantezza inconfondibile luce luminosa colori intensi Swarovski Elements il marchio premium per i migliori cristalli prodotti da Swarovski. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.